Per quanto riguarda il video sui pensieri, insomma, non ho molto da dire, ma praticamente, non so se avete visto l'episodio di ieri su Il Seffra di Once Again, bene, quella era la seconda sorpresa, cioè la prima parte, la seconda sorpresa dedicata al maestro, per il suo compleanno, la prima parte, se ve la siete persa, riguardava la mia, insomma, il fatto che bevevi col caffè napoletano, o caffè, come si dice qui, Il caffè napoletano per lui, magari vi metto il link in descrizione della schermata finale, per chi non l'avesse visto, se fosse perso volesse mai rivederlo, un video condito poi sempre da mie musiche, sottofondo, ma potete capirlo meglio dalla descrizione, che è molto dettagliata, e c'è sia una versione short version, extended version, un po' più lunga, i 10 minuti, Sì, invece, per quanto riguarda l'episodio di Il Seffra di Once Again, avete visto che quasi tutto l'episodio è incentrato su M. The Ranged, David Bowie, ma, appunto, perché la prima parte di questa seconda sorpresa? Perché la seconda parte, invece, si tratta proprio della mia esibizione, proprio del pezzo, cioè sia video più audio, e ho fatto tre versioni, più una versione strumentale, quindi, in qualche modo, se siete interessati, cioè, vi attendo, dopo questa versione solo audio, che poi un'altra prima, perché non è tutto il pezzo, che si sente, dunque, nell'episodio, su, in questo ventunesimo episodio, su Il Seffra di Once Again, sì, e quindi, vi attendo per questa versione cantata, ma, io, comunque, ho già interpretato il pezzo sullo strumentale l'anno scorso, lo trovate nelle playlist, Various from David Lynch Movies, ma, vi metto anche il link, se volete, già in questa descrizione, Sì, ovviamente, il pezzo, insomma, di un grande assoluto, è stato molto impegnativo, io ho cercato di fare il possibile, ma poi, spiego meglio la descrizione del video, quando lo carico, spero, Massimo, domani mattina, ma, comunque, ho i miei dubbi, vediamo un po', comunque, credo di non andare oltre lunedì, perché poi, penso, a lunedì in poi devo caricare altri pezzi, non sono riuscito a caricare, non ho sonno, di Dario Argento, ok, diciamo, ho fatto un tributo al film, in occasione, chi mi ha seguito lo sa, del suo anniversario di uscita in Italia, 5 gennaio 2001, poi, insomma, il pezzo non l'ho caricato solo come, appunto, seconda parte del mio, del mio, del mio, come secondo regalo, sorpresa al maestro, ma anche per altri motivi, insomma, almeno 3-4 motivi, ma questi li potete leggere molto bene nella descrizione del video, altrimenti qua, mi dilungo troppo, per cui, leggetela, che, gli ho scritto tutto, praticamente, per ispirazione, perché l'ho caricato, il pezzo, il mediranger, e anche l'altro pezzo, che, è di, da un film di Takeshi Kitano, che è l'estate di Kikuchiro, del 99, perché è stato, 3 giorni fa, 75 anni, in Takeshi Kitano, questo grande regista giapponese, estremamente conoscete, ma anche lì potete leggere più informazioni su questa, seconda parte dell'episodio, su It's a Friday Once Again, anche se, comunque, era importante la parte su, tutta la parte su, I'm Deranged. Dico solo che il titolo vero dell'episodio è Directed by It's a Friday Once Again, music serie, episode 21, Directed by the Angel Man, in riferimento all'Angel Man del verso della canzone di David DeBow, e poi Directed by D'Aveshi Lintano, perché questo, ho fatto questo gioco di parole tra Takeshi Kitano e David Lynch, comunque spero che l'avete visto, qualcuno vi sia piaciuto, insomma, queste cose qui. E poi aggiungo pure che non so se domani riesco a fare il report, perché, diciamo, vabbè, poi forse spiego, penso lunedì, ma comunque vediamo, io cerco sempre di farlo, cioè, sto sempre in casa, ma forse per un problema legato ad un'altra persona, forse non riesco a farlo, ma poi vi spiego meglio se ho tempo, ma insomma, vediamo. Comunque, nel caso, è avvisato. Diciamo che nel caso questo report vale anche per domani, non il video sui pensieri, perché domani è una cosa da pensare, ma comunque se non riesco a fare il video sui pensieri, nemmeno, vabbè, lo posticipo, cioè, il video dei pensieri per lunedì, penso che varrà per il video di domani, dei pensieri, quindi di domenica. Have a great day! Grazie. Grazie. Grazie.